Allora Simone, ha ragione scelta, siete forse più squadra, nel senso che quando voi la volete vincere la partita, decidete comunque di giocarla, poi alla fine ci riuscite, non soffrete, lo sapete soffrire. Ma oggi noi eravamo forse molto più convinti di loro di raggiungere l'obiettivo che entrambi ci siamo preti stati, cioè il quarto posto. Non è ancora tutto dato per scontaggio, ancora non è tutto, però dobbiamo ancora lavorare tanto e sperare che gli altri partiti fare bene come siamo magenti. Ci sta, comunque siamo stanchi più di caldo, però la convinzione di raggiungere l'obiettivo è quella che fa la differenza, quindi oggi ci siamo stati una squadra e l'abbiamo portata a casa. La gratificazione al livello personale, oltre al gol, che mi fa sempre piacere per un attaccante che è stato soprattutto gli acquati sgroscianti, anche perché la tua oggi è stata veramente una grande gara. Sì, noi attaccanti noi viviamo per quello, viviamo per il gol, ovviamente fare una partita importante come oggi, soprattutto perché la partita era importante come ho detto prima, è una partita maschera, è una partita dove noi ci trovavamo tutto. Comunque veniamo dalla partita importante di Catania, dove abbiamo dato il massimo, quindi magari qualcuno ha molto scelto che possa pensare a vedere. Abbiamo avuto confronti in settimana con alcuni tifosi che ci hanno caricati tantissimo, loro sono la nostra forza, quindi io sono contento per il gol, contento per la prestazione, perché comunque ha portato insieme ai miei compagni di questa vittoria importante. A proposito di Catania, lì si lamentavano che credi che è un po' troppo forse? Adesso siamo arrivati a Catania per fare la nostra partita, io non credo, qualsiasi squadra sarebbe andata lì per fare bene, è una cornice importante, è una squadra importante, si gioca nel campionato, certo noi non andiamo lì a fare passeggiare, noi siamo una squadra importante come la loro, magari loro hanno qualche individualità in più, però comunque noi siamo una squadra che anche oggi ha fatto capire che stiamo lì non per fare la comparsa. Poi diciamo che è stato anche forse un buon banco, come disse l'iprof, cioè un campo difficile, caldo, con tanta gente, quindi devi dimostrare di avere, diciamo, comunque carte. I playoff saranno così, campi caldi, ci sarà gente, noi questa testa a Catania abbiamo superato a fine molti. Grazie. Grazie.